Ben tornati con un nuovo video Mi hanno tolto Diciamo un 70 grammi d'oro Per l'affitto E quindi devo riprenderli Allora subito di nuovo Come ogni mattina Giù a scavare Devo accendere la pompa Provo lavarlo un'altra volta No no solo uno Questo qui è da 48 Eh beh Vai vai succhia succhia E questo via Basteranno 400 Direi di sì Via Vado a vendere Subito Subito in città Destra di qua Disattivare Sì vabbè Allora Vendita 14.000 Non mi bastano Vabbè 14.000 Se io invece lo creo Eccolo qua Eccolo qua Dai andiamo subito in banca Erano 14.000 Quasi Se lo vendo Vale molto di più Se lo vendo come lingotto Vale molto di più Vai vai Vendi Vendi Eh 15 44 Forse bastano Il pianto mobile La pompa ce l'ho Il generatore I cavi Uno Vai Questo qua Due Generatore Tre Poi c'era No Sì Penso sia questo Eh Sottile o spesso No Sembra sottile Vabbè Io le prendo Tutte e due E questo qua Aggiungi bene Vai Grande Tre secchi E basta E basta Costo 15 Poco Allora intanto carico Un attimo tutto Generatore Ok Ok Fatto Perno a mano Adesso devo agganciare Quello schifo Qua Basteranno i cavalli Come no Ok Si vola Non si muove Vai Potenza assoluta Arriva la cavalleria Eh Madonna Oh Adesso iniziamo a ragionare Con un impiantino Così Ci vado il pelo Con l'escavatore 28.000 Ok Va bene La roba che è sopra Un attimo Che guardo bene No Vabbè Io li scarico qui E' qui che devo fare il lavoro Incavi Ecco quello ci penso dopo Vado subito A prendere l'escavatore Buongiorno Mi serve Mi serve un escavatore Questo qui Voglio questo qui Non ho più soldi Va benissimo Lo compro Corro subito Questo qui non sarebbe male Preso Me l'ha portato alla base Do Penso di sì Boh Vado a vedere No Sì ma dov'è No Mi sono dimenticato A fare il trasporto Due palle Ma costa anche Mi costa altri soldi Costa 1.500 Non ce li ho Vado un attimo A tirare su Quei 400 Che mi mancano Ok Sono tornato Guadagno giusto Quei 400 Dollari Per Pagare il trasporto Per va bene dai, 80 grammi, basta bella, lo vendo proprio grezzo, non mi interessa, perfetto, finalmente posso comprarmi lo scavatore, si, me lo porta la mia concezione, quanto costa? 1500, va bene, ok, adesso dovrebbe essere là, ecco l'escavatore, finalmente, spero che abbia il pieno, se no, spegni spegni, come funziona, ok, madonna, è meglio così, che potenza, si va due all'ora, fanali, vabbè, questo non interessa, freno a mano non interessa, va bene, ho capito, gira a destra e gira a sinistra, ah, ok, ok, bello, bello, un po' più veloce, no, voglio provarlo subito, polminatore, madonna, è difficile, allora, aspetta, apri, chiudi, va bene, ok, ok, è un po' un casino, eh, poi così, eh dai, sto tirando su un po' di roba qua, pressione dell'olio esacerata, vai su, con calma, ok, va bene, va bene, va bene, lo spengo un attimo, adesso qui, come funziona sto schifo, allora, cavo blu, si, ora c'ho giù, va bene, allora, prendo questo, metto qua, ok, devo farci, devo prendere la tanica, le due taniche sono qui, ma no, ma che cazzo, dai, 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 ma no, vai, 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 ok, ok, sciolo giù, serbatoio a pieno, va bene, va bene, anche questo, metto lì, come riserva, va bene, accendere adesso si accende, ok, serve acqua, e quello cos'è? dirmi che... si, figata, questo qua, ok, ok, questo è per questo qui, che va qua, perfetto, va bene, va bene, è spento lì, giustamente, l'acqua, come la porto qui? allora, lascia giù, dice che ci arriva, il cavo, c'è il tubo, è venuto qui, è venuto qui, mannaggia, nooo, dai, che un po', nooo, tira su, tira su, magari ce la faccio, vabbè, porto questo più indietro, poi porto questo qua, fino la, dai, 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 no, non basta, vado un attimo in città ancora, per non saper né leggere né scrivere, qui non serve a niente, questo non serve a niente, questi no, filtro, no, no dell'acqua, ah, questi, sì, è anche un altro di questi, va bene, ok, ma buttalo su bene, cazzo, dai, che è già luna, sì, lo tolgo, perché poi lo devo rimettere, dopo due metri, perfetto, mi sono spaventato, dimmi che ci arrivi perché, porc, allora, ehm, mi sto, mi incazzando, togli tutto, lascialo giù, rivolgi tutto, allora, andiamo direttamente da qua, qua, da qua, fino al limite qua, ok, qui giustamente non me lo fa fare, guadagno il più possibile, ok, no, va bene, va bene, ok, adesso ci arriverà, vittoria, vittoria, vabbè, qui poi lo sposto, faccio da qui, qui, e non c'è problema, oh, impianto completato, ok, il video finisce qua, appuntamento al prossimo, video di Goal Rush.